Vediamo se riesco a trovare il quartier generale dei partigiani. Il quartier generale dovrebbe essere nei dintorni. Questo è il quartier generale. Cecchino, i tedeschi hanno fatto la loro mossa. Sono andata al castello a liberare... L'appunto di Sofia dice che è andata al castello. ...assicurarci che le nostre famiglie fossero felici e con la pancia piena. Ma siamo pur sempre una nazione operosa e audace. E a volte ci piace avventurarci fuori dalla vita. In tali casi è necessario ampliare i confini padri per sicurare... ...di quale c'è il prezzo della vostra gente. La vostra gente deve essere potente... ...degli che sono felici e non viaggio... Voi prima che devo portare. покупe le tanta pure 2015 ...è parte che comprionna la bona. Abbiamo avuto da quanto? C'erci un po' piccolo studenti. Abriansarsi attraggiamo unướcione. C'erci un po' personale, non viaggio a sembicare ancora più frapporre rispetto. Cosa è di come su céu di metà. Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì!